Ecco il fuoco bruciato e sta bruciando anche l'anima incatramata di Cialdini all'inferno che con le sue truppe stava qui in questa valle all'Ariana a Vindicio hanno tagliato tutti gli ulivi di Gaeta, hanno massacrato la città, l'hanno rasa al suolo i morti sono stati 4.000, più di 1.200 soldati barbonici e mancano all'appella 3.000 civili ecco cani rognosi bruciati all'inferno, 160.000 cannonate hanno distrutto la mia città bersaglieri, fanti del regno di Sardegna, hanno messo a ferro e fuoco il sud hanno bruciato i nostri paesani nelle case a Ponte l'Antolfo, a Casalduni, a Mozzano, a Leofaro 100 città e villaggi bruciati, hanno bruciato armenti, campi, come vedete bruciare adesso quest'erba e come dice un'amica che è dovuta emigrare al nord, a Bolzano i meridionali purtroppo devono prendere coscienza ma stiamo ora già cominciamo ad essere tanti noi briganti e brucieremo quella storia scritta dai vincitori come stiamo bruciando questi cespoli, quest'erba tagliata da pochi giorni fa vendicheremo culturalmente parlando i nostri partigiani chiamati briganti da quelli in France Sade, li chiamava mio nonno, in France Sade, cioè di origine francese portatori di sifilide, di fame, di morte e che noi ormai siamo in tanti movimenti politici del sud, culturali vedete oggi ho indossato questa maglia che rappresenta Alleanza Meridionale questa maglia l'ha regalata a Lucio Barone Buonanima che aveva fondato Alleanza Meridionale nel 1991 e con quel gruppo politico ci siamo presentati alle elezioni politiche amministrative e provinciali di Napoli ebbene per poco non avevamo preso il consigliere provinciale poi nacquero altri movimenti è nato il partito del sud che è una costola di Alleanza Meridionale grazie al contributo di Angelo Manna Lucio Barone Mimino Ciaramaglia e del sottoscritto e piano piano con Alleanza Meridionale o con il partito del sud o con un altro nome arriveremo a Roma ma non ci sederemo in quel Parlamento dove hanno preso posto criminali di guerra massoni e farabutti che hanno distrutto il nostro sud Dio è con noi la storia è fatta di corsi e ricorsi che hanno distrutto il nostro livello